Le resistenze antimicrobiche. Se ne parla in un incontro molto interessante promosso all'interno dell'Aula Magna dell'Ospedale Civile di Pescara. Ai nostri microfoni il dottor Paolo Fazzi, responsabile del settore di microbiologia e virologia clinica dell'Ospedale Civile Spirito Santo di Pescara. Sì, effettivamente oggi abbiamo avuto la fortuna di portare a Pescara i migliori specialisti, i migliori esperti di antibiotico resistenza in Italia. Sono tutti colleghi microbiologi, provengono da diverse regioni italiane e si occupano anche come ricercatori taluni proprio di questo aspetto fondamentale ormai della medicina. Perché? Perché purtroppo i microrganismi imparano praticamente quasi istantaneamente, dopo pochissimi mesi dall'introduzione di una nuova molecola antimicrobica imparano praticamente a resistergli. Questa situazione crea dei grossi problemi a livello ovviamente terapeutico. Quindi noi dobbiamo, che ci occupiamo di questo aspetto della medicina, dobbiamo cercare di capire bene questi meccanismi per cercare appunto di bypassare questo problema, che è un problema veramente importante perché secondo statistiche attuali ma anche del recente passato, è un problema che determina un allungamento dello stato di malattia, quindi dell'ospitalizzazione, ma soprattutto un numero elevato di morti. Tant'è che nel 2014 un grosso statistico aveva fatto una previsione, cioè che nel 2049 ci saranno più morti dovuti appunto all'antimicrobico e all'esistenza rispetto alle morti causate dalle malattie oncologiche oppure addirittura degli incidenti della strada. Quindi se non ci adoperiamo tutti per tempo ovviamente la situazione diventerà sempre più preoccupante. Un problema emerso anche recentemente con il Covid. Quali le novità proposte in questo incontro di Pescara? Allora, Covid cosa ha determinato? Ha determinato purtroppo un aumento esponenziale dell'uso di antibiotici talora anche in maniera scriteriata. Il problema è fondamentale perché più si adoperano gli antibiotici soprattutto non in maniera mirata, maggiore è la possibilità di andare incontro a un antibiotico resistenza e di conseguenza di peggiorare anche la prognosi del paziente.